Onorevoli colleghi e onorevoli colleghe, mai come in questa occasione il Parlamento, come istituzione dell'Italia democratica, è stato mortificato e vilipeso. La manovra è stata approvata al Senato senza che sia stato possibile nemmeno esaminarla in Commissione, votato la scatola chiusa con la fiducia. E ciò si ripeterà in questa Camera dei Deputati. Un vulnus, vulner costituzionale senza precedenti. Il Premier Conte, come al solito, ha scaricato la responsabilità sull'Unione Europea e sui tempi richiesti dal negoziato per evitare la procedura di infrazione. Finge di ignorare mesi irresponsabilmente spesi dal Governo giallo-verde in gaff, battute sarcastiche, insulti con i leader europei, dichiarazioni dilettantistiche di ministri, sottosegretari e presidenti di Commissione. Mentre la borsa crollava, i capitali fuggivano all'estero, lo spread cresceva fino a 335 punti. Ora il Paese raccoglie le macerie di tanta velleitaria iattanza. La patrimonializzazione delle banche è collassata e nel settore si rischiano nuovi default. Dal Senato arriva una manovra confusa e sbagliata, che raschia il fondo del barile e ha avuto l'ardire di raddoppiare l'IRES addirittura al volontariato sociale, che taglia gli investimenti, aumenta la pressione fiscale complessiva ed ipoteca il futuro dei nostri figli con gigantesche clausole di salvaguardia. Avete ereditato un Paese che cresceva, magari troppo poco, ma cresceva. In soli i suoi mesi lo avete portato sulla soglia della recessione. La manovra contiene anche il condono per l'omesso versamento dei contributi alle casse di previdenza. Ho presentato un emendamento per escludere da ciò almeno la cassa di previdenza degli avvocati, emendamento che ovviamente è stato bocciato in Commissione. Ritengo inaccettabile che un avvocato, un professionista abilitato, che riveste un preciso ruolo sociale e di rango costituzionale, venga autorizzato da questo Governo a non versare i propri contributi previdenziali. Questa vostra assurda misura costituisce un vulnus gravissimo alla stabilità finanziaria della cassa previdenziale forense, una delle meglio amministrate, che finora non ha registrato difficoltà a mantenere la propria autosufficienza e autonomia finanziaria. Le prime prudenziali stime parlano di circa 200 milioni di mancati incassi. Il legislatore negli ultimi decenni ha giustamente imposto all'avvocato, a garanzia della qualità della prestazione professionale resa, precisi obblighi in termini di formazione continua, assicurativi per i rischi professionali in materia di antiric ciclaccio e tutela della privacy. Ora scopriamo che può non pagare i contributi previdenziali e farla franca versandole solo una minima percentuale. Quale garanzia di professionalità può dare un avvocato che non versa i propri contributi previdenziali? Il nostro codice deontologico recita testualmente l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Un avvocato che non versa i propri contributi e poi magari presenta di domanda di condono viola in un colpo solo tutti questi doveri. Gli avvocati italiani sono per la stragrande maggioranza dei galantuomini con la schiena diritta, consapevoli del grande onore, ma anche del grande onere, che rappresenta indossare la toga e la libera professione è, e non deve diventare mai, un ammortizzatore sociale. Il Senato ha modificato anche il fondo salva banche, introducendo il principio per cui l'assistenza alla presentazione della domanda non dà diritto ad alcun compenso professionale. Immagino che la razio della norma sia ispirata al tentativo di impedire che somme erogate dal fondo statale finiscano le mani di quei pochi studi legali, e mi accingo alla conclusione, Presidente, che si sono accaparati anche migliaia di clienti. Il fenomeno è stato denunciato in particolare dai media veneti, Vicenza Più in primis, il Corriere del Veneto. Penso che il relatore Raduzzi lo ricordi. Comprendo quindi la razio che ha ispirato la norma, ma temo che il risultato non sia all'altezza delle intenzioni degli estensori del testo. I pati di quota lite che gravano sugli sparmiatori che si sono rivolti a questi studi legali restano infatti efficaci. La norma, invece, rischia di penalizzare ingiustamente gli avvocati normali, seri professionisti, che non potranno pretendere un compenso se chiamati ad assistere clienti che presentano istanze di accesso al fondo. Concluda, onorevole Zanettino. Un ultimo auspicio. Spero che le norme che regolano il fondo siano state concordate adeguatamente con l'Unione Europea e non possano essere considerate aiuto di Stato. Qualche maliziosa vocina... Deve concludere, però, onorevole. Ha superato abbondantemente il tempo a sua disposizione. Concludo il pensiero. Qualche maliziosa vocina che circola per i corridoi di Montessitorio dice che invece è già pronta la procedura di infrazione, che inevitabilmente sterilizzerebbe il fondo. Dio non voglia che finisca così. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon. Nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione, per altre informazioni, vai sul sito vicenzapiù.com. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati. Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine. Il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venite. BPV Bugie Popolari Vicentine. 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Grazie a tutti.